Il corso Competenze essenziali per il PM del futuro, la gestione dei progetti con Ioffre ai Project Manager gli strumenti per affrontare le sfide della digitalizzazione, concentrandosi sull'integrazione dell'intelligenza artificiale nella gestione dei progetti. Con un focus su automazione, analisi predittiva e tecnologie AI, il programma sviluppa competenze tecniche e digitali essenziali e potenzia soft skills come leadership adattiva e gestione del cambiamento. I partecipanti creeranno un piano di crescita continua, preparandosi a rimanere competitivi e innovativi in un contesto professionale in rapida evoluzione. Puoi scegliere se seguire il corso in modalità interaziendale nelle date programmate, oppure organizzarlo presso la tua azienda, personalizzandolo sulle tue esigenze. Entrambe le modalità possono essere finanziate con fondi impresa o fondi dirigenti.